bene amici di telefono.net sulla mitica maglietta della notte bianca di carugatti dell'anno scorso che non ripeteremo assolutamente quest'anno il Motorola Razor questo prequel di una recensione in un pomeriggio a Londra dove il Razor ci ha aiutato molto a fare live a fare quello che poi avete visto questo pomeriggio sul sito qui live dal Nokia World prequel per farvi vedere ce l'abbiamo un telefono davvero carino 7,1 mm di spessore sottilissimo Kevlar qua dietro al posteriore e un display Super AMOLED davvero interessante molto grande, molto luminoso oggi abbiamo usato tantissimo Whatsapp, abbiamo usato tantissimo Watermark abbiamo fatto tante tante fotografie le potete vedere qui, le avete viste su telefonino.net abbiamo fatto anche qualche video e il nostro Razor si è sempre comportato bene non siamo riusciti a connetterci al wifi del Nokia World ma questo è stato un problema comune a tutti i blogger infatti siamo usciti un pochino in ritardo con i video e con le foto questo è solamente per dirvi che questo Razor ci ha dato delle buone impressioni qui a Londra lo stiamo testando a fondo perché l'abbiamo usato tanto qui per voi quindi rientreremo in Italia e faremo la review di questo nuovissimo Motorola per telefonino.net da Andrea Galeazzi e Luca Bordoni un saluto grazie a tutti